Tra le wax azzurre, la più innamorata, secondo il popolo dei social, è Rachele Risaliti, ex Miss Italia e fidanzata di Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina. I due dovevano partire per le Seychelles. L'infortunio di Lorenzo Pellegrini ha invece regalato al giocatore viola l'europeo. Vacanze rimandate. Vacanze insieme a Sperlonga per le mogli e i figli di Toloi e Spinazzola. Miriam Spinazzola e Flavia Toloi si sono conosciute quando l'attuale terzino della Roma giocava a Bergamo e sono sempre rimaste in contatto. Sono andate al mare in un villaggio della costa laziale e non si sono perse una partita della nazionale a Roma. Dopo la vittoria contro il Galles, alcune wax azzurre sono andate insieme a cena a Roma. Niente dieta però, incredibilmente secondo i gossip hanno mangiato tutte carbonara o cacio e pepe. La tensione del match aveva evidentemente messo fame a tutte le ragazze. Matteo Pessina, autore del gol contro il Galles, si è lasciato con la storica fidanzata Alessandra e adesso è single e sembra concentrato solo sul calcio e l'università. Mentre Marco Verratti debuttava all'europeo contro il Galles dopo l'infortunio al ginocchio, la sua futura moglie, la top model francese Jessica Idy, si divertiva con le amiche all'addio all'ubilato tra Cannes e Saint-Tropez. Le nozze sono previste dopo l'europeo.